Il luogo di cultura più visitato d'Italia. Per la prima volta, con 1.721.637 visitatori, nel 2021 le Gallerie degli Uffizi sono state il luogo di cultura con più ingressi, più del Colosseo, del Parco archeologico di Pompei, e per la prima volta anche dei Musei Vaticani. Ad assegnare il prestigioso titolo alla Galleria Fiorentina è la classifica stilata dal Giornale dell'Arte. Secondo i numeri diffusi dalla rivista, gli Uffizi primeggiano anche tra le mostre tenute in Italia lo scorso anno, con Giuseppe Penone e alberi inversi. Siamo di nuovo su una linea ascendente che fa ben sperare per il futuro, ha detto il direttore Eike Schmidt. Tre i fattori decisivi che hanno potuto attirare e fidelizzare i visitatori. Le nuove sale del Cinquecento aperte lo scorso maggio. Le mostre che spaziano dall'antichità classica al contemporaneo. E l'offerta culturale ha concluso che diramiamo anche sul web e sui social. Un primato storico che precede l'avvio dell'alta stagione turistica per la città di Firenze, dove, dopo due anni di pandemia, il settore conta di recuperare terreno fin dai giorni di Pasqua. Le strutture ricettive fin qui hanno registrato l'80% di prenotazioni. Numeri non lontani dal 2019.